Eccoci amici, oggi eravamo qui al Consiglio federale della Palla a Mano dove Skymano finalmente entra in famiglia. Siamo qui anche a vedere la Coppa Italia, un grandissimo evento sportivo che oggi vuole fare la differenza non solo qui all'interno della Coppa Italia ma a livello internazionale perché ve lo voglio ricordare, la Palla a Mano è a cinque cerchi ed è un nostro grande orgoglio italiano. Ma cosa faremo insieme? Tanti eventi, tante cose e soprattutto tanta informazione e divulgazione perché qui lo sport è per tutti. Un bacio dalla Palla a Mano, dalla Coppa Italia, ciao!